buongiorno a tutti ben ritrovati sul canale oggi vi faccio vedere al lavoro il motocoltivatore ferrari 72 s che è stato equipaggiato con una coppia di cingoli della costruzione moderna e poi è stato fatto l'impianto per l'avviamento con una dinamo regolatore di carica e la batteria quindi lo vedete un po sgraziato perché senza cofano ma abbastanza funzionale andiamo a preparare un po di terreno per gli ortaggi quindi facciamo prima una passata perché c'è un po di erba e poi procediamo alla solcatura per trapiantare le piantine ecco qua il motocoltivatore nello specifico equipaggiato appunto con questa coppia di cingoli della costruzione moderna adesso andiamo a preparare questo pezzo qua di terreno precedentemente fatto con il ripuntatore però l'erba la fa da padrone vi faccio sentire la messa in moto del ferrari 72 s adesso andiamo a preparare il volo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti